salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme queste graziose uova decorative per la pasqua ideali per addobbare la nostra casa e utilizzando un gancetto possiamo anche appenderli negli alberi di pasqua perché vedo che tantissimi utilizzano addobbare la casa nel periodo di pasqua con degli alberelli dove appendono tante decorazioni prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook e la mia pagina instagram passione uncinetto e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più fare insieme dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone fiocco lilla e bianco lo lavorerò con uncinetto numero 3 poi avrò bisogno un marca punti una perlina decorativa un paio di forbici e lo vatta per imbottirlo prendiamo il cotone lilla e facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo facciamo una catenella e nel cerchio lavoriamo 6 maglie basse 2 3 4 5 e 6 tiriamo la codina e stringiamo il cerchio rientriamo nell'asolina ed entriamo nel primo punto che abbiamo fatto prendendo tutte e due le asoline e lavoriamo direttamente la prima maglia bassa quindi faremo una lavorazione a spirale questa la possiamo già segnare quindi la marchiamo nello stesso punto entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa quindi ora dobbiamo fare un aumento per ogni punto che abbiamo a disposizione quindi lavorare due maglie basse nello stesso punto alla fine ci ritroveremo con 12 maglie basse sganciamo il marca punti entriamo nella maglia marcata facendo direttamente una maglia bassa quindi stringiamo la solina della lavorazione entriamo nella maglia marcata e facciamo la prima maglia bassa la marchiamo e ora lavoreremo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione quindi in tutto 12 maglie basse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 e 12 sganciamo il marca punti entriamo nuovamente nella prima maglia sempre facendo una maglia bassa e la rimarchiamo qui dobbiamo lavorare una maglia bassa più un aumento la prima l'abbiamo già lavorata quella quella marcata nella seconda maglia lavoreremo un aumento due maglie basse nello stesso punto nella maglia successiva una maglia bassa e nella seguente un aumento alla fine ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse fatto l'ultimo aumento e quindi arrivati alla fine sganciamo il marca punti entriamo nella prima maglia e facciamo una maglia bassa che marcheremo nuovamente giriamo la lavorazione guardate così e qui lavoreremo due maglie basse più un aumento la prima l'abbiamo lavorata nella maglia successiva lavoriamo la seconda e nella terza lavoriamo l'aumento di nuovo 12 più l'aumento alla fine del giro ci ritroveremo con 24 maglie basse fatto e terminato il nostro giro sganciamo il marca punti e nel giro successivo facciamo la prima maglia bassa e la rimarchiamo dobbiamo lavorare maglia su maglia quindi ci dobbiamo lavorare 24 maglie basse fatte le nostre 24 maglie basse chiudi sganciamo il marca punti entriamo nel punto marcato e lo rimarchiamo facendo sempre la prima maglia bassa del giro successivo e ora dobbiamo fare tre maglie basse più un aumento di un aumento la prima l'abbiamo fatta lavoriamo la seconda e la terza nel quarto punto faremo l'aumento e dobbiamo fare questo fino alla fine del giro alla fine ci ritroveremo con 30 maglie basse sganciamo il marca punti entriamo nel punto marcato facciamo la maglia bassa e lo rimarchiamo e nel in questo giro dobbiamo fare punto su punto quindi lavoreremo una maglia bassa sopra una maglia bassa in tutto 30 maglie basse arrivati alla fine iniziamo il prossimo giro agganciandoci sempre con maglia bassa e marcando che contiamo come prima maglia bassa ora dobbiamo fare in tutto quattro maglie basse più un aumento alla prima l'abbiamo fatta 1 2 3 4 e l'aumento questo sarà l'ultimo giro di aumenti se voi volete fare un nuovo più grandetto potete continuare a fare questi aumenti quindi in questo caso se volete farlo un po più grande il giro seguente ve lo lavorate maglia su maglia e poi fate un altro giro di aumenti io non lo farò perché la dimensione delle mie uova decorative ho scelto che sia questa però si possono fare sia più piccole che più grande facendo più o meno giri quindi continuiamo sempre a lavorare 4 maglie basse più un aumento alla fine dobbiamo avere 36 maglie basse arrivati qui alla fine sganciamo il marca punti e ora da questo momento in poi marchiamo il primo punto dobbiamo fare 6 giri totali di maglia su maglia quindi lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa in questo caso sono 36 maglie basse il marca punti giro dopo giro lo toglieremo quindi lo spostiamo per tenere il segno del giro che si sta lavorando potete inserire nella lavorazione qui alla base guardate del giro che si sta facendo potete inserire un filo colorato magari lo inserite anche così che vi darà esattamente il punto dove cominciare a contare i sei giri questo è il primo e questo si trova il filo si trova alla base quindi continuiamo la lavorazione facciamo sei giri e ci rivediamo quando abbiamo terminato di lavorarli fatti i nostri sei giri guardate dove ho inserito il segno conto 1 2 3 4 5 e 6 quindi posso levare il segnetto e possiamo continuare la nostra lavorazione sgancio il marca punti mi inserisco nel primo punto e lo marco ora dobbiamo fare un giro di diminuzioni quindi farò 4 maglie basse più una diminuzione perché riprendiamo gli aumenti che abbiamo fatto l'ultimo aumento è stato 4 maglie basse più un aumento ora faremo 4 maglie basse più una diminuzione la prima l'abbiamo fatta due tre quattro prendo asolina e asolina dei due punti successivi faccio passare il filo e lo chiudo e lo chiudo di nuovo uno due tre quattro prendo la prima asolina la seconda asolina esterna faccio passare il filo e chiudo e continuo così fino alla fine arrivati qui alla fine ci ritroviamo con le due con la diminuzione quindi delle due dei due punti e come gli aumenti prima del marca punti dobbiamo avere le diminuzioni sganciamo entriamo nel primo punto e lavoriamo un giro di punto su punto quindi abbiamo ottenuto con le diminuzioni 30 maglie basse ora dobbiamo lavorare 30 maglie basse in questo giro quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante arrivati alla fine sganciamo il marca punti entriamo nel primo punto lo rimarchiamo e ora dobbiamo fare in questo giro tre maglie basse più una diminuzione la prima l'abbiamo fatta facciamo la seconda e la terza e ora a soli in esterna e a soli in esterna dei due punti successivi facciamo passare il filo e chiudiamo di nuovo 1 2 3 a soli in esterna e a soli in esterna facciamo passare il filo e chiudiamo da 30 punti in questo giro caliamo a 24 maglie basse iniziamo il giro con dobbiamo fare un giro completo di maglia su maglia quindi dobbiamo lavorarci 24 maglie basse vedete come si sta creando il nostro uovo nel giro successivo dobbiamo fare un altro giro di diminuzioni quindi facciamo il primo punto e lo marchiamo e dobbiamo fare due maglie basse più una diminuzione quindi la prima l'abbiamo fatta la seconda e ora prendiamo a soli in esterna e a soli in esterna e facciamo la diminuzione poi di nuovo 1 2 tocca le uova e se ne vanno per i loro fatti comunque e l'altra diminuzione ok quindi 2 maglie basse una diminuzione fino alla fine del giro ci ritroveremo con 18 maglie basse arrivati qui alla fine nel giro successivo dobbiamo fare sempre un giro di diminuzioni quindi dobbiamo lavorarci una maglia bassa che facciamo e segniamo e una diminuzione e lo facciamo sempre come avevo fatto finora poi di nuovo una maglia bassa e una diminuzione e ci ritroveremo con 12 maglie basse fatta l'ultima diminuzione è arrivato il momento di riempire il nostro uovo vi potete aiutare anche con delle pinzette per inserire la lovatta per riempirlo io mi aiuterò con le mani quindi con il dito ora ne inseriremo il più possibile per rendere l'uovo in ogni caso compatto ecco questa è la parola esatta e così possiamo continuare a fare un altro giro di diminuzione e quindi termineremo la lavorazione dopo averlo riempito abbastanza riprendiamo la lavorazione quindi sganciamo il marca punti ora non lo inseriremo più con un dito schiacciamo l'interno e con l'altro riprendiamo la lavorazione ora in questo giro le diminuzioni non le faremo prendendo la solina ma prendendo direttamente il punto perché ci verrà più facile quindi entriamo nel primo punto prendiamo il filo entriamo nel secondo prendiamo il filo e chiudiamo insieme prima diminuzione la stessa cosa facciamo negli altri due tiriamo e abbiamo fatto la seconda diminuzione in tutto dobbiamo ottenere sei maglie basse quindi questa è la terza le contiamo insieme per questo motivo non abbiamo inserito il marca punti uno e due siamo a quattro uno due siamo a cinque e ora abbiamo gli ultimi due punti uno e due guardate abbiamo lavorato una diminuzione per ogni punto quindi siamo arrivati a sei maglie basse tagliamo il filo e ora l'ultimo lo faremo con lago sfiliamo il filo prendiamo un ago da lana inseriamo il filo entriamo nel primo punto nel secondo nel terzo quattro cinque e sei tiriamo stringiamo guardate e abbiamo chiuso perfettamente la lavorazione ora entriamo ecco perso il filo lo rimetto entriamo comunque e nascondiamo il filo fra le maglie quindi facendolo passare nella lavorazione quindi facciamo così e facciamo così e possiamo tagliarlo ora per dargli una forma lo sistemiamo con le mani e giustamente l'imbottitura deve prendere anche comunque una forma e il nostro uovo è pronto ora dobbiamo fare la decorazione guardate alla fine sta anche appoggiato quindi lo appoggiamo qua prendiamo il bianco e facciamo il nostro fiorellino con questa decorazione ad onde voi potete anche inserire del nastrino e poi fare il fiorellino e lo inserite sul nastrino o fare un fiocco e il fiorellino sul fiocco questa è un'idea io in questo caso l'ho fatto tutto uncinetto allora facciamo un cerchio magico prendiamo l'uncinetto entriamo ci tiriamo il filo e ci lavoriamo due catenelle filo sull'uncinetto entriamo nel cerchio e lavoriamo una maglia alta non chiusa di nuovo una maglia alta non chiusa e siamo a due e la terza maglia alta non chiusa chiudiamo insieme due catenelle entriamo nel cerchio magico facendo direttamente una maglia bassissima e abbiamo fatto il primo petalo di nuovo due catenelle maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa chiudiamo insieme due catenelle entriamo sempre nel cerchio maglia bassissima questo lo dobbiamo fare cinque volte totali quindi due dobbiamo farne altri tre lavorati in questo modo lavorati i nostri cinque petali tiriamo la codina dietro la prendiamo e la tiriamo il più possibile creando così il nostro fiorellino guardate ora prendiamo la solina di lavorazione facciamo passare la solina in tutto il fiore così e stringiamo così fermiamo il lavoro prendiamo l'uncinetto e iniziamo a fare l'effetto zig zag del nostro abbellimento entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto e facciamo una maglia alta 3 catenelle voltiamo il lavoro entriamo qui nella maglia che abbiamo appena chiuso e lavoriamo una maglia alta 3 catenelle e voltiamo il lavoro basta girare la parte di sotto entriamo sempre nella nella maglia chiusa e facciamo un'altra maglia alta 3 catenelle e continuiamo così io ho fatto 12 gruppettini di questi per arrivare alla circonferenza del mio uovo voi man mano che la fate potete provare e quindi rendervi conto di quanto farla comunque lunga quindi ci facciamo questi archetti e ci rivediamo quando li abbiamo conclusi per attaccarli dall'altra parte del fiore fatti i miei 12 archetti prendo l'uovo e faccio la mia prova quindi mettendoli così e li faccio arrivare dall'altra parte perfetto per me vanno bene 12 riposo prendo la parte dritta del fiore e prendo la lavorazione così e me la porto qui davanti prendo l'uncinetto e vado in questo petalo l'opposto da precisamente da dove abbiamo iniziato entro in un punto entro nella solina della lavorazione così prendo la solina e me la tiro all'interno così dopo di che rientro nella lavorazione dell'archetto prima di rientrare sistemo il filo ecco lo faccio passare di sotto così entro nella lavorazione dell'archetto e mi chiudo con maglia bassissima catenella aggiuntiva e taglio il filo sfilo e stringo e questa è la decorazione che io ho creato ora che faccio mi porto il filo dentro il petalo guardate così dopodiché me lo tiro nella parte dietro stando attento a non tirarmi più che altro altri fili me lo porto qui nella parte centrale quindi lo faccio camminare tra le maglie e poi con il filo di inizio lavoro e quindi con la codina faccio un nodino quindi sigillo il tutto non dobbiamo per forza stringere se non siamo vicinissimi l'importante è che non si sfili ok taglio le codine e questa è la parte dietro che verrà inserita nella parte che non si vede appunto questa è la parte davanti ora prendo l'uovo inserisco così guardate la mia decorazione quindi posso cucirla attaccarla con un goccino di colla a caldo oppure lasciarla semplicemente così perché magari possiamo anche decidere di toglierla e utilizzare le uova così come sono senza decorazioni oppure cambiare le decorazioni dobbiamo attaccare la perlina con un goccino di colla a caldo colla per tessuti e poi vi faccio vedere se è semplicissimo come inserire il qui per appenderlo quindi questo filo è semplicissimo perché in questo caso prendiamo un pezzetto di filo bianco prendiamo questa parte di sopra quindi la parte proprio centrale entriamo da una parte sbuchiamo dall'altra ci tiriamo il filo così ok e ne tiriamo un pezzetto in questo modo facciamo un nodino per quanto lo vogliamo fare lungo quindi se non lo vogliamo facciamo eccessivamente lungo poi andiamo a tagliarlo facciamo un nodino questo volendo si può fare anche con un nastrino più fine quindi lo potete inserire in questo modo tagliamo l'eccesso e dopo facendo camminare guardate la lavorazione lo ecco inseriamo all'interno quindi non si vedrà il nodino che abbiamo fatto e abbiamo fatto la pallina per appenderla magari come decorazione alla nostra casa oppure al nostro albero di pasqua nel frattempo ho inserito la perlina e il nostro vetto è pronto guardate che sono carini poi fatti di tutti i colori vi posso assicurare che fanno la loro figura semplicissimi da fare veloci ma soprattutto graziosi li potete anche regalare e quindi inserire in una scatolina inserire in una cesta regalo regalarli in un sacchettino trasparente comunque un grazioso regalo o un grazioso lavoretto per la nostra Pasqua spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulle mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi ringrazio come sempre di avermi seguita